Ancora oggi non riesco a capire se quel giorno sia stato bello o brutto, felice o triste, liberatorio o oppressivo. La cosa certa è che lo porterò sempre dentro me, come una bolla di sapone che non scoppia mai. Ma doveva andare così. Bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto. La fortuna è che c'è sempre qualcuno disposto ad aiutarci. Per un aiuto a volte basta affacciarsi alla finestra.